Il centro turno di indirizzazione presenta Cultura è seminario, opportunità, incontro, comunicazione, espressione Per tutti e con tutti Trovare soluzioni per incontrare e comunicare Per tutti Per tutti e con tutti Per tutti e con tutti With everyone and for everybody Ogni giorno ciascuno può accrescere la propria cultura La cultura degli altri La cultura di tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti